Enrico Paolini, ex vicepresidente della giunta regionale con delega al turismo, è stato nominato dall'Assemblea dei Soci, presidente del nuovo consiglio di amministrazione della Saga, la società che gestisce l'aeroporto d'Abruzzo e il cui la regione detiene la quasi totalità delle azioni. A Pescara in regione la conferenza stampa di presentazione dei nuovi membri del CDA, presieduta dal presidente Luciano D'Alfonso, un incontro al quale hanno preso parte anche l'assessore al bilancio Silvio Paolucci ed il presidente uscente del CDA Saga, Nicola Mattoscio. Vicepresidente è stato nominato l'imprenditore del settore alberghiero Emilio Schirato, mentre i nuovi consiglieri saranno l'ex consigliere regionale Antonella Bosco e la funzionaria regionale del Dipartimento Trasporti Evelina Davoglio, confermato nel CDA l'imprenditore dolciario Stefano Menozzi.